Uno dei temi che a me ha particolarmente colpito è il ruolo dell'intelligenza artificiale, un tema toccato ovviamente dal Santo Padre. C'è una frase nel suo messaggio, nell'esortazione ovviamente a mantenere una comunicazione umanamente aderente alla persona, il giornalista sul campo. Sarà quello che farà la differenza, quindi l'incontro comunque con le storie che poi noi giornalisti dobbiamo raccontare. Sì, credo che il tema in questione sia quello della libertà. Cioè potremmo dire la libertà di pensiero e la libertà poi di espressione, di comunicazione dei propri pensieri e la libertà richiede la persona. Quindi ecco, se da una parte lo sviluppo della tecnologia e l'intelligenza artificiale ci offre delle opportunità grandiose, un tempo impensabili e che devono diventare patrimonio utilizzato da noi per uno sviluppo positivo, per il bene, dall'altra parte occorre viginare perché questo sviluppo non metta da parte l'uomo. Il Papa ricorda, diciamo, non lasciamoci dominare dagli algoritmi, ma dobbiamo realizzare, vivere il nostro essere persone in relazione con gli altri. E in relazione vuol dire che incontrano. E questo è il lavoro del giornalista, cioè il giornalista deve incontrare. Deve incontrare le persone, le situazioni, le storie di vita, quelle di gioia e quelle talvolta faticose e dolorose, perché già l'incontro è un dono. Cioè il giornalista fa e svolge un servizio importante prima ancora di dare la notizia, perché è nell'incontrare, nel portare umanità lì dove avviene qualcosa. E poi questo diventa notizia condivisa. E la notizia condivisa aiuta una comunità a partecipare. Ecco, ma ci vuole la persona. Allora lo dicevo prima come battuta, prendendo spunto dal messaggio del Papa, abbiamo bisogno sempre del giornalista persona. E quindi, se posso, vi difendo come giornalisti persone. Senta, ha annunciato anche la novena, insomma, della Madonna del Conforto. Ovviamente in questo caso una, come dire, una festività tutta retina. Certo, una bella festività. Per me è il secondo anno che posso viverla per intero. e la penso come occasione bella, anche per me, di incontro con la gente. La gente che viene in pellegrinaggio, che viene a pregare, che viene a portare una preghiera di richiesta, di aiuto, di bisogno o di ringraziamento. Ma è un incontro, è una partecipazione di popolo, che dice una religiosità profonda, dice anche una ricerca di spiritualità e ci chiede di accogliere una città, di accogliere una comunità perché possa sentirsi in chiesa, di casa. Ma perché possa sentirsi di casa, in città. La presenza di...